Roma. In 41 sono partiti. Saranno 37 a finire la gara. Duello previsto. Cascino-Dordoni. Cascino il 16 si mette subito al comando. Dordoni da prima glielo lascia, poi gli si affianca. Faranno insieme un lungo tratto. Il percorso si svolge su un anello dei Lungotevere, 4 chilometri da ripetersi 5 volte. La decisione si profila al quinto giro. Dordoni con una graduale accelerazione di cadenza stacca il rivale. Il movimento delle spalle rivela il ritmo e lo stile di questo atleta cronometrico. Si è conquistato il titolo di campione italiano nella maratonina di marcia. Di salvo è arrivato quinto ma ha più di 40 anni. Uno che va così a piedi, dice De Sica, non ha paura dei ladri di biciclette.